Bene, benvenuti, siamo di nuovo su AltVR AltSpaceVR e volevo farvi vedere qualcosa che negli ultimi tutorial non abbiamo visto bene e cioè accedere agli eventi, organizzare eventi e partecipare a eventi e anche visto che ci siamo a vedere un po' i settings guardi, l'interfaccia utente che vedete noi abbiamo imparato a muoverci nelle ultime volte e la cosa più importante è il menu che si ottiene premendo qua quindi premiamo qua e abbiamo il nostro menu Escape esce dal menu, ma attenzione, se facciamo il nuovo Escape torniamo di nuovo nel menu quindi per entrare e uscire dal menu è sufficiente, almeno sul desktop premere Escape, è una cosa abbastanza facile quando siamo in questo menu, vedete che abbiamo la possibilità di customizzare l'avatar quindi cambiare come siamo vestiti abbiamo la galleria con tutte le foto che abbiamo fatto qui ho fatto delle foto ieri sera e l'incontro di ieri sera in NumSpace abbiamo le nostre le nostre, la nostra casa qui la cosa è un po' curiosa che non me ne fa aprire altri ma c'è comunque la nostra casa vista ed è già parecchio altre cose che possiamo fare è andare nei settings andiamo prima di tutto perché come vedete ci sono delle opzioni che io ho abilitato questo qui di partecipare negli early access program ma soprattutto enable walls beta questo l'ho abilitato e se non cliccate questa opzione quindi se è fatto così vedete che sparisce da qua i mondi quindi se non vedete i mondi è semplicemente perché dovete abilitare enable walls beta e abilitare i mondi secondo me è molto interessante questa qui participate in early access program non è fondamentale per il momento anzi forse direi che potete anche toglierlo quando togliete lui fa di nuovo tutta l'operazione di re-login quindi si rientra e con tutta perché riparte completamente diciamo che piace escape torniamo in questo menu quindi se vuoi adesso io sono entrato con me vedete che sono qui in realtà si vede relativamente poco perché dobbiamo andare in avatar sono The Pyramid Cafe ma se io voglio cambiare il mio avatar perché ho più avatar vado su settings faccio tranquillamente switch account facendo switch account vado in salazar chiocciola gmail.com e se mi sono ricordato la password dovrei entrare quando si entra quello che succede è che si fa una reautenticazione e a questo punto si carica adesso la prima cosa che farà dirà che non posso stare in quel posto no mi è entrato e vedete che qui io ho messo i pianeti che girano che a me è sempre piaciuto questo qui è una roba che ho fatto l'altra terra Saturno Mercurio il sole insomma ma non è questo quello che voglio farvi vedere voglio farvi vedere la storia degli eventi allora gli eventi come si fa ad andare negli eventi allora quando si entra qui abbiamo Discover allora Discover sono un po' di cose dove ti fa vedere una prima riga allora innanzitutto fa vedere un evento consigliato ma poi sotto fa vedere altri eventi consigliati di cui questo è il primo e vi fa vedere quante persone sono interessate vi fa vedere quando inizia ecco qui la cosa notevolissima è che vi fa vedere l'orario nell'ora italiana quindi quando qui vedete 3 a.m vuol dire le 3 di mattina quindi vuol dire che questo inizia le 3 di mattina ok quando qui non c'è scritto niente vuol dire che questo evento sta avvenendo in questo momento e magari vi dirà da qualche parte anche quando finisce quindi il prossimo evento che partirà almeno di quelli che vi fa vedere qua sono questi qui che sono off topic o i jolly e poi si possono vedere tutti gli altri eventi e la cosa interessante è che negli eventi presenti in questo momento vi fa vedere quali sono il qui tra l'altro ci sono sempre i soliti bacchetti per cui non è possibile quindi chiudiamo riapriamo ogni tanto si blocca quindi lo rifacciamo popular events gli eventi che sono in corso in questo momento vi fa vedere quante persone sono in questo momento in quell'evento e qual è il massimo di persone che sono tollerabili in quell'evento in questo momento vuol dire che qui ci sono 7 persone e qui ci sono 5 mentre invece per gli eventi futuri qui vi fa vedere quante persone hanno dato il loro interesse qui sono 38 persone che sono interessate e qui 73 persone se voi fosse interessato a un evento è sufficiente che magari prendiamo supponiamo che io sia interessato all'evento spotlight beh intanto posso avere info e vedere qualche particolare in più dell'evento quindi posso vedere insomma che cosa e se mi interessa l'evento faccio interested innanzitutto guardiamo 73 persone ma se io mi metto interested mi sarei aspettato 74 comunque il senso è quello l'avete capito no? la prima fila fa vedere degli eventi diciamo che sono spot cioè che capita in un certo intervallo temporale che adesso poi lo vediamo meglio con gli events la seconda fila invece fa vedere delle sim le chiameremo noi che sono degli spazi che sono sempre aperti quindi sono degli eventi perenni gli eventi perenni sono sempre in funzione e tra l'altro la cosa interessante è che fa vedere come eventi perenni anche la mia stanza quella dove c'è voi pianeti questa qui che vedete dietro e vedete che qui ci sono io dentro e essendo dentro posso ancora ospitare altre 69 persone quindi in realtà nelle stanze nostre possiamo ospitare altre persone quindi anche la nostra stanza è già automaticamente un evento permanente se no c'è l'altspace VR Info Zone quindi per partecipare a questo evento è sufficiente che io clicco e poi faccio Enter attenzione che ci sono due modi allora un modo per entrare è proprio fare Enter e un altro modo è quello di fare un portale quella differenza fra questi due modi per entrare in un evento la stessa cosa capita anche qua vedete che c'è Enter e Portale Info sapete cos'è allora Enter entra direttamente nell'evento Portale invece rezza un portale vicino a voi voi direte a cosa serve vedete che compare questo portale qual è la cosa interessante di questo evento è che tutti quelli che sono presenti vicino a voi vedono il portale quindi voi invece di fare tanta fatica a dire agli altri cercate l'evento eccetera una volta che avete individuato un evento vi create un portale vi create praticamente questa specie di cosa fantascientifica e gli altri finché dura possono cliccarla e quindi possono partecipare all'evento in questo caso ad esempio è sufficiente che io clicco qua sopra ecco nel momento in cui tra l'altro facciamo cancel qui dice quante persone hanno aderito hanno cliccato finora e quando io che ho creato il portale poi vado mi trascino dietro a tutte le persone quindi faccio una specie di pullman quindi se altri sono qui presenti li posso portarmi di dietro questo è un modo proprio per molto sociale di muoversi ed è una cosa molto carina che in second life o in altri posti praticamente non c'è quindi quando clicco mi sposto direttamente clic ok e poi facciamo confirm e passo oppure faccio destroy quindi non sono interessato al portale oppure ritorno e faccio l'enter normale e magari facciamo l'enter in un posto un pochino meno frequentato fra questi quindi per esempio questo qui è vuoto questo è semplicemente una vista roof poco interessante ma andiamo quindi possiamo entrare quindi facciamo enter ci spostiamo in questo mondo e in questo mondo a questo punto vediamo che ci sono ci saranno altre persone e noi possiamo sentirla adesso questo è un mondo vuoto quando arriva lo vediamo però come vedete questa è una stanza simile a quella che ho lasciato che però è diversa in questa stanza praticamente ha tutte le mie cose ora magari facciamo un passo avanti e proviamo a generare un evento allora per generare gli eventi vediamo in events e andando in events vediamo che abbiamo tutti gli eventi una line up degli eventi principali e tra gli eventi principali non è detto che ci siano tutti quindi se voi non vedete gli eventi potete andare su all allora con all si vengono visti tutti gli eventi e quindi anche gli eventi meno interessanti vedete che sono diventati in questo momento c'è horror, matic, holograms against reality ma c'è anche questi altri eventi quindi ad esempio l'evento che ho organizzato ieri che non era featured non compariva quando si avevano i quando si cliccava qua non si vedevano ora è difficile vedere mentre invece con all si vedeva ora vedete che qui abbiamo un create event allora noi possiamo creare un evento vediamo come è facile creare un evento allora voi dovete prima di tutto dire che cosa vogliamo fare vogliamo fare un meet up un gaming fare un gioco una presentazione guardare insieme qualcosa insieme supponiamo di voler fare ad esempio una presentazione che sono quelle cose che ho fatto ieri faccio una presentazione gli do un nome quindi questo facciamo presentazione vedete che man mano che scrivo qui mi fa vedere la cosa qui possiamo dire prova di presentazione e il dettaglio qui abbiamo il fatto di se è un evento pubblico o meno se io non metto se io faccio public può appare nella lista se invece voglio fare un evento privato non lo clicco qui schedule event vuol dire che se io lo clicco dico che avverrà nel futuro ma se io faccio così vuol dire che lo organizzo adesso quindi come vi ho detto a questo punto io ho fatto il mio evento ho detto che è un evento privato quindi solo io e i miei amici possono entrare qui posso definire qual è lo spazio con cui è configurato quindi ad esempio ieri l'ho fatto con questa ambientazione e poi posso dire enter now allora nel momento in cui credo che basta che io faccio enter now e io ho creato automaticamente un evento e siamo tra un attimo entraremo nel mio spazio questo evento nel mio spazio è assolutamente molto simile a quello che abbiamo visto ieri vediamo che praticamente qui possiamo andare sul palco io sono l'organizzatore essendo l'organizzatore ho i miei host tools ma c'è anche il mio world editor se voglio modificare lo spazio ma per il momento non ce ne occupiamo ma vediamo adesso come faccio per chiamare qualcuno per chiamare qualcuno potrei andare a vedere se ci sono degli amici online e probabilmente posso invitarli in qualche modo ma la cosa più veloce è forse di andare nei miei my events nei miei my events compare questo evento che è questo che abbiamo appena organizzato e la cosa interessante è che dovrei avere da qualche parte o possibilità di fare il portale o voi dite anche dunque dovrebbe esserci un link non c'è peccato allora perché non c'è perché probabilmente loro si aspettano che io questo link lo vado a prendere dove? sul sito web quindi vado almeno l'altra volta l'ho fatto così quindi vado su alt vr punto com mi loggo con la mia identità che è quella che abbiamo visto prima che non è questa ma è logout quindi rientriamo con l'identità di Salazar credo quando ce la farò perché se non ho la mia identità non non potrò gestire il mio evento e ok adesso siamo a Salazar andiamo quindi tra parentesi se io volessi visitare un evento posso farlo anche tramite il sito questa è una cosa che avevo cercato di spiegare ad esempio questi sono eventi questo è un evento che partirà fa 3 minuti dunque eventi live qui non ce ne sono parte quella in 3 minuti quindi magari aspettiamo i 3 minuti che arrivi quello ma se facciamo all forse ce ne comparirà qualcuno ecco visit now questo qui c'è l'unley club stage piuttosto che horrormatic holograms vedete che io posso entrare anche dal sito quindi io sono logato qui dietro c'ho la mia c'ho la mia praticamente il mio alt vr ma qui ho il mio sito web e se io dico visit now vedete che qui mi dice aprire alt space vr allora dico si apri alt space vr e quello che succederà dentro l'alt space vr che è lì dietro dovrebbe essere in teoria quello di andare in quel posto se non lo ah si l'ha fatto sembra che lo stia facendo vedete che è uscito qui mi sta chiedendo il visore ma non ce l'ho perché adesso sono solo su desktop alt space vr sta entrando e io vado in questo poi magari adesso mi spegnerò il microfono ecco mi hanno già spento vedete welcome to lonely shadows club stage quindi mi dicono questo e vedete che c'è il microfono spento però sento la gente che parla ma torniamo a casa ok torniamo a casa così giusto per non essere disturbati e per non disturbare con la nostra presenza e torniamo al discorso di prima quindi se vogliamo tornare al nostro evento abbiamo dicevamo qui abbiamo gli eventi abbiamo my events e abbiamo il tutti vedete questa qui è la presentazione che io ho fatto che dura da adesso dalle 11.54 fino alle 2.54 quindi sono tre ore quindi mi dà tre ore ed è una prova di presentazione se io clicco su questo evento vedete che posso anche fare enter now qua oppure semplicemente posso fare share e share cosa fa share mi prende esattamente questo indirizzo account.br com.events 14.17 quindi io posso prendere questo indirizzo oppure semplicemente anche prendere questo e questo indirizzo lo posso dare ai miei amici lo posso pubblicare su facebook e le persone una volta che adesso faccio un esempio faccio la copia di questo vado su un incognito quindi non sono logato niente vedete che mi compare automaticamente questa finestra e io posso fare enter now e facendo in questo modo si fa apri alt space vr quindi lo apre o lo lancia e nel mio alt vr che è questo c'è l'aperto mi fa andare direttamente nella finestra e quindi mi fa andare in quel posto dove c'è l'evento quindi d'ora in poi i nostri eventi li faremo pubblici ma diffonderemo il link e tramite il link si potrà entrare per chi organizza l'evento la cosa interessante è che qui abbiamo la possibilità di dunque torniamo agli eventi questi sono tutti gli eventi ah no perché qui non siamo logati quindi torniamo vedete che qui c'è un welcome to presentazione ok quindi questo è quello che succederebbe alla persona che entra ma quello che avremmo fatto e vedete che ecco qui sono non sono più un cioè sono proprio il proprietario c'è la possibilità di finire l'evento di sincronizzare di creare un altro evento oppure soprattutto di modificarlo allora nel momento in cui lo modifico posso modificare il titolo la descrizione la data inizio la data fine la categoria in teoria potrei anche cambiare ad esempio se qui dico che lo voglio fare in un modo differente basta che vado su un altro di questi lo modifico quindi invece di privato lo voglio fare pubblico e poi posso mettere in realtà una serie di cose micidiali ma che non non andremo a diffondere e qui per dire se voglio cambiargli quindi se la template di partenza lo voglio cambiare quindi voglio mettere ad esempio office olympics questa cosa qua quando faccio l'update event cosa succede è che l'evento è cambiato ma io che sono dentro non vedo cambiata l'ambientazione perché non la vedo cambiata l'ambientazione perché a questo punto bisogna intanto c'è tutto l'host tool e l'host tool c'è una parte host panel che mi permette di gestire tutte le persone presenti di controllare di vedere chi ha i microfoni aperti di controllare soltanto quali sono gli host e quali sono gli amici presenti quindi è una cosa abbastanza interessante tra le altre cose posso anche consentire alla gente di alzare la mano e questo è interessante perché quando quando consento di alzare la mano a me compare automaticamente anche un'opzione in più che mi permette di alzare la mano e a questo punto vedete che io vedo che qualcuno ha alzato la mano che vuol dire che vuole ad esempio parlare questa è una cosa interessante che ieri sera non avevo non abbiamo profittato ma in un dibattito ad esempio è fondamentale a questo punto andando a vedere lì si va a vedere chi è che vuole parlare e poi dà anche la sequenza con cui è stato allora qui si può dare anche la parola dar la parola vuol dire dare il megafono alla persona vuol dire che la persona quando parla si sente più forte e poi questo gli si dà lo stage access cioè ad esempio lo si può consentire alla persona di salire sul palco e così dismiss vuol dire che in teoria gli abbassiamo la manina questi sono tutti i guest che abbiamo visto prima qui per dire vuol dire che questa persona che sono io non può parlare gli diamo il diritto di parlare altre cose interessanti allora prima abbiamo detto che abbiamo modificato la struttura come facciamo effettivamente a dunque non era qua dovrebbe essere mi sembra nei settings nei settings da qualche parte ci dovrebbe essere la possibilità di cambiare però adesso a moderate forse ecco reset space se non vado errato se faccio reset delle space da qua da moderate in teoria lui fa uscire e fa rientrare ripristinando l'ambiente di evento e come vedete è cambiato leggermente quindi è diventato un pochino più complesso nel senso che abbiamo fatto un ambiente diverso questa cosa qua non so se state osservando la si può fare mentre l'evento è in funzione quindi possiamo cambiare radicalmente la struttura dell'evento adesso questa io ieri abbiamo imparato quella l'evento di ieri ma quindi magari facciamo ripetiamo così anche per chiarezza facciamo l'edit e gli modifichiamo e torniamo alla nostra dunque qui quale sarebbe dovrebbe essere questo club stage no presentation stage quindi aggiorniamo l'evento e adesso ormai l'abbiamo imparato come funziona nel senso che qui andiamo sul moderate reset space reset space e vediamo che riusciamo a tornare alla alla nostra struttura originaria perfetto questa mi trovo già più a casa così ok qua un'altra cosa nel nel si può volare ma qui si potrà volare no vedete che qui non mi fa volare come faccio a volare in teoria per volare devo andare su input e abilitare il volo facendo questa abilitazione vediamo se adesso mi fa volare si adesso posso volare quindi volare basta puntare verso il soffitto verso una parete e poi muoversi in questo modo si può riuscire a lavorare poi altra cosa notevole abbiamo visto host tool abbiamo visto quindi gli host eccetera questa cosa qua ma ci sono altre opzioni le altre opzioni sono toggle stage blocker quando faccio così quando vedete che è blue vuol dire che soltanto quelli specificamente abilitati possono salire sul palco se è così vuol dire che tutti possono salire questo cliccandola vuol dire che ho la mia voce amplificata e la sentono tutti se no è una voce normale amplificata vuol dire che la sentono un po' dappertutto invece quando è amplificata la sentono solo se sono vicini a me message all mi consente di dare dei messaggi quindi dire ad esempio ci sono delle difficoltà sorry we are working out a few issues thank you send e questo viene mandato a tutte le persone e quindi questo è un modo per chattare per comunicare scritto a tutti e poi c'è questo mute all che permette di mutare tutti i membri perché magari c'è qualcuno che sta che sta disturbando e quindi questa è una cosa interessante ora la cosa più importante di questa zona qua lo dico per chi vuole eventualmente gestire una cosa del genere e questo monitor questo qui che possiamo ci andiamo un po' indietro così lo vediamo da vicino allora qui noi possiamo facciamo fare due cose se noi clicchiamo mi aspettavo che funzionasse almeno ieri funzionava in un certo modo ma adesso non funziona esattamente come ieri quindi a parte che qui c'è un help che mi è piaciuto nel senso che se voglio mettere delle slide dice andate su altvr.com ma se io faccio qua posso andare qui posso andare sulla home però vedete che c'è la possibilità di mettere un indirizzo e l'indirizzo io posso mettere un qualunque video per esempio andiamo su youtube prendiamo il primo video che mi fa vedere ad esempio questo dust questo qui faccio copia urlo video e andiamo nel nostro qui e gli facciamo un ctrl v e a questo punto abbiamo il video che tutti possono vedere vedere notate che va anche fullscreen questa è una cosa interessantissima c'è anche la pubblicità che speravo di riuscire a togliere ma non ci riesco e qui praticamente possiamo vedere il nostro video insieme in teoria tutti lo possono vedere e facciamo ok torniamo no torniamo magari a casa about blank poi poi lo esploro meglio perché c'era un menu diverso per le prime volte che l'avevo usato che mi permetteva di fare una cosa brillante allora io per il momento direi che va bene così quindi per questo video lo termino è già troppo lungo però credo di avervi dato l'abc per organizzare un evento e per gestire anche un po' la parte di moderazione che tra l'altro la parte di moderazione può essere fatta anche eventualmente buttando fuori delle persone oltre a mutare voi potete anche prendere una persona e iettarla oppure prendere le persone e dire a queste persone che diventano moderatori o ospiti o che vi possono aiutare a fare tutte le cose allora questo è tutto per questo video ci sentiamo prossimamente